Nelle prossime puntate, che andranno in onda in America, per la figlia di Ridge si metterà male, Shayla dimostrerà ancora di essere pronta a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Steffi sarà in grave pericolo nelle prossime puntate americane di Beautiful. Shayla Carter fa il suo ritorno a Los Angeles e, questa volta, minaccia di fare del male alla figlia di Ridge. Quest'ultima non è disposta. In alcun modo, accedere. Non permetterà alla Dark Lady di entrare a far parte della sua nuova famiglia con John Finnegan. In quanto sa quanto lei sia pericolosa, chi segue la soap opera da tempo conosce i crimini che in passato ha commesso Shayla, dunque può comprendere la furia di Steffi. Si apre una vera e propria guerra per la giovane Forrester, pronta a tutto pur di tenere fine il loro bambino e i slontani dalle grinfie della Carter. Ma questo per lei potrebbe essere complicato. Nelle puntate che sono già andate in onda in America. Steffi fa un piccolo viaggio di lavoro con Hope. Torna a casa prima del previsto e si ritrova di fronte a una scena sconvolgente, Shayla sta tenendo in braccio e Isi si trova insieme a Finn e al padre Jack Finnegan. Scopre così che suo neo marito non sta mantenendo la promessa e inizia una vera e propria crisi tra loro. E mentre si pensa che Brooke entrerà in gioco per lottare a fianco a Steffi, ecco che le ultime anticipazioni di Beautiful segnalano che Shayla è pronta a metterla fuori gioco. secondo quanto si legge su Soft Dirt, la Carter vorrà sparare la giovane stilista. Questo per lei potrebbe essere un colpo mal riuscito. Infatti, in questo modo, Finn capirà il motivo per cui sua moglie è così preoccupata. Addirittura il medico potrebbe vedere la sua madre biologica in azione. Non sarà solo sconvolto, ma anche preoccupato per la loro famiglia. In ospedale, dove Shayla viene ricoverata, avviene un nuovo scontro. I medici fanno sapere a Finn e Steffi che le analisi della Carter sono nella norma. Sebbene abbia avuto un mancamento, la Forester, a questo punto, fa notare al marito che non ha torto e che Shayla sta fingendo di stare male per tenerlo al suo fianco. In questa occasione, la Carter chiede a Steffi una possibilità, per mostrarle che non intende far del male a nessuno. Le fa presente che il suo unico scopo è quello di conoscere suo figlio e suo nipote. Ma la figlia di Rigi non accetta e lascia, con Finn, l'ospedale. Sembra che il dottore non voglia più avere a che fare con Shayla. Non sa però che quest'ultima è disposta a tutto. Nella sua stanza Shayla si lamenta del comportamento di Steffi e Finn, in quanto si sente trattata come fosse spazzatura. Sicura che farà parte di questa famiglia a ogni costo, invece, e faresti meglio a non cercare di fermarmi. Steffi, o pagherai? Pagherai caro. Nulla di inaspettato, soprattutto per i telespettatori che conoscono bene la Carter. Ora bisognerà attendere per scoprire come proseguirà questa guerra tra Shayla e Steffi. Grazie a tutti.